Cari amici di Bel Canto Italiano, siamo in una città veramente speciale, bene sì, siamo a Venezia. Guardate che coincidenza, proprio nel giorno in cui è nato Antonio Vivaldi, ci troviamo qui in missione musicale. Vedete che questo è il famosissimo Canal Grande, c'è una giornata meravigliosa perché fa caldo, si sta benissimo, un clima primaverile, ci vediamo tra qualche minuto a Piazza San Marco, un abbraccio a tutti i nostri seguaci e a presto. Ciao a tutti, ci sono delle belle novità, seguiteci, guardate, c'è il maestro Mattia Peli e la nostra allieva Arianna Richeldi. Guardate che meraviglia, che ne dite di un bel concerto vivaldiano qui a Venezia? Sarebbe bello, no? Direi che se ne può parlare. Un caro saluto e a presto. Ciao a tutti. Cari amici di Bel Canto Italiano, siamo ancora qui in missione musicale in una splendida Venezia con un clima addirittura primaverile. Adesso volgerò la telecamera dall'altra parte perché per voi è una sorpresa. Vedete che siamo in questi vicoli veneziani meravigliosi e misteriosi? Ci stiamo recando nel posto dove è stato battezzato niente po' di meno che Antonio Vivaldi, detto il prete rosso. Andiamo avanti, andiamo avanti, troveremo il maestro Mattia Peli che praticamente è andato in avascoperta. Vediamo un po', vediamo un po'. Questo è il nostro piccolo contributo, il nostro piccolo documentario. Vedete che è pieno di turisti naturalmente, ma questi vicoli di Venezia sono davvero super suggestivi. Ecco qui, adesso si apre una piazza e vediamo un po', vediamo, guardate che meraviglia. Ecco, guardate che in questa chiesa è stato battezzato Antonio Vivaldi, c'è il maestro Mattia Peli che ci sta aspettando. E' vero, è vero, andiamo avanti, andiamo avanti, questa è la chiesa di San Giovanni in Bragora in Venezia. Vedete questa piazza? Meravigliosa, meravigliosa. Immaginate che tutto è partito da qui, vediamo cosa dice la targa. Ecco qui, Antonio Vivaldi detto il prete rosso, musicista sommo nato in parrocchia. Il 4 marzo del 1678 venne battezzato in questa chiesa. Ebbene, ieri era il suo compleanno e praticamente lo vogliamo ricordare con queste immagini. Un saluto a tutti da Belcanto Italiano e presto aggiornamenti in questo tour vivaldiano. Ciao a tutti e a presto!